la prima busta che mi hanno dato l'ho data mia madre che mia madre ha bisogno di fare il pane perché il forno ce l'avevano rotto la guerra ce l'aveva rotto era un mia vai di a piedi o con le biciclette poi c'era il suono delle sirene che era così bello era una cosa abbastanza romantica anche allora si è capito veramente quanto fosse importante quella fabbrica perché doveva mangiare centinaia di persone